Fa tappa a Grottaglie nel Tarantino la finale regionale del campionato italiano pizza in tour, competizione in cui i veri artisti della pizza si sono sfidati. Ci sono cinque competizioni, cinque categorie che sono classica, alternativa, gourmet, regionale e napoli stile. E quindi sarà proprio la città delle ceramiche a decretare il vincitore per ogni singola categoria per la Puglia. Il campione raggiungerà la Toscana per la finale nazionale. Abbiamo scelto Grottaglie perché è una location bellissima, è piena di risorse ed è un territorio da valorizzare. Come si giudica una buona pizza? Intanto bisogna vedere la cottura, poi il bordo che è molto importante e poi gli ingredienti. E poi si passa alla cosa più importante, all'assaggio, perché poi con l'assaggio puoi dare il giusto valore e voto alla pizza. Perché hai scelto di fare questo lavoro? Per passione, solo passione.